Super Geek Geek Heroes Super Geek Geek Heroes Super Geek Geek Heroes tra gli eroi Super Geek Geek Heroes insieme a noi Super Geek Geek Heroes uno di noi Super Geek Geek Heroes Sono bambini super fantastici Mirabolanti e simpatici Con loro puoi imparar sempre più Vieni in missioni assieme a noi anche tu La matematica paura più non fa Con le note giochiamo Allenati anche tu insieme a noi Diventa un Super Geek Heroes come noi Super Geek Geek Heroes tra gli eroi Super Geek Geek Heroes insieme a noi Super Geek Geek Heroes uno di noi Super Geek Geek Heroes Super Geek Heroes sei benvenuto tra gli eroi Super Geek Heroes divertiti e giochi insieme a noi Super Geek Heroes sei anche tu uno di noi Super Geek Heroes Siete pronti a imparare? Forza! Iniziamo! Jade Jotter Millie Muzz Ronnie Rock Vicky Voice Susie Smiles Peter Planet Antactive Siamo i Super Geek Heroes Siamo i Super Geek Heroes Ci divertiamo? Ogni giorno Con una missione Imparare! Super Geek Heroes Conosciamo i mestieri che aiutano le persone con Susie Smile Buongiorno! Il mio nome è Susie Smile e sono qui per voi! Sono una Super Geek Heroes con una missione speciale! I miei super poteri mi permettono di risolvere situazioni quotidiane intorno a me Oggi conosceremo i mestieri che aiutano le persone! Sì! Dai! Iniziamo! Adesso apro la mia scatola dei giochi Ho tante cose bellissime dentro la mia scatola Indosserò dei vestiti così conoscerete i mestieri che aiutano le persone tutti i giorni Guarda! Sono un agente di polizia! Ho un distintivo sul mio cappello Proteggo le persone e le aiuto a stare fuori dai guai Ora sono vestita come un'infermiera Ho una croce rossa sulla mia uniforme Aiuto le persone quando sono in ospedale Guardatemi! Sono un vigile speciale! Vi piace il mio segnale? Grazie! Aiuto le persone a attraversare la strada vicino alle scuole Ora sono vestita come un paramedico La mia uniforme è verde Aiuto le persone quando chiedono un'ambulanza Riuscite a indovinare chi sono? È vero! Sono una postina Aiuto a consegnare lettere e pacchi Ora sono vestita come un veterinario Ho molte attrezzature mediche Qui con me Aiuto gli animali quando si ammalano Guardate! Riconoscete chi sono? Ho in mano una chiave inglese Esatto! Sono un meccanico e lavoro in una grande officina Aiuto a riparare auto, moto e camion Guardatemi adesso! Sono un pompiere! Vi piace il mio casco? Grazie! Mi protegge la testa quando aiuto a spegnere gli incendi con l'acqua del mio idrante È stato divertente! Lo facciamo di nuovo? Forza! Iniziamo! Super Geek Heroes La missione di oggi è davvero divertente! Stiamo imparando tante cose! Continuiamo! È arrivato il momento dei poteri di Susie Smile Yeeeh! Woohoo! È stato fantastico! Indosserò dei vestiti così conoscerete i mestieri che aiutano le persone tutti i giorni Guarda! Sono un agente di polizia! Ho un distintivo sul mio cappello! Proteggo le persone e le aiuto a stare fuori dai guai Ora sono vestita come un'infermiera Ho una croce rossa sulla mia uniforme Aiuto le persone quando sono in ospedale Guardatemi! Sono un vigile speciale! Vi piace il mio segnale? Grazie! Aiuto le persone a attraversare la strada vicino alle scuole Ora sono vestita come un paramedico La mia uniforme è verde Aiuto le persone quando chiedono un'ambulanza Riuscite a indovinare chi sono? È vero! Sono una postina! Aiuto a consegnare lettere e pacchi Ora sono vestita come un veterinario Ho molte attrezzature mediche qui con me Aiuto gli animali quando si ammalano Guardate! Riconoscete chi sono? Ho in mano una chiave inglese Esatto! Sono un meccanico e lavoro in una grande officina Aiuto a riparare auto, moto e camion Guardatemi adesso! Sono un pompiere! Vi piace il mio casco? Grazie! Mi protegge la testa quando aiuto a spegnere gli incendi con l'acqua del mio idrante Sì! Mi piace molto indossare gli abiti che si trovano nella mia scatola Mi trasformo e aiuto le persone Grazie per l'aiuto Pronta per una giornata ricca di divertimento È ora di uscire e giocare Susie Smile è il mio nome Io sono una Super Geek Heroes Missione compiuta È giunta l'ora di andare Super Geek Heroes Super Geek Heroes Yeah! Super Geek Geek Heroes Yeah! Super Geek Geek Heroes Tra l'heroi Super Geek Geek Heroes insieme a noi Super Geek Geek Heroes uno di noi Super Geek Geek Heroes Sono bambini, super fantastici, mirabolanti e simpatici Con loro puoi imparare sempre più Vieni in missione assieme a noi anche tu La matematica paura più non fa Con le note giochiamo Kick, kick, urrà! Allenati anche tu insieme a noi Diventa un Super Geek Heroes come noi Super Geek Geek Heroes tra gli eroi Super Geek Geek Heroes insieme a noi Super Geek Geek Heroes uno di noi Super Geek Geek Heroes Super Geek Heroes sei benvenuto tra gli eroi Super Geek Heroes divertiti e gioca insieme a noi Super Geek Heroes sei anche tu uno di noi Super Geek Heroes Evid Aufgabe Super Geek Heroes sei benvenuto tra gli eroi Super Geek Heroes sei הואérer